Diabasis cos'è? È un antico vocabolo greco che significa appunto la parola che si fa atto, quindi la parola che si fa gesto, azione. La grande differenza tra la parola che rimane pensiero e la parola che si fa azione è che qualsiasi pensiero deve avere poi come conseguenza necessaria l'azione. Anche le sofisticazioni più raffinate, più minute del pensiero filosofico, se rimane pensiero ha solo un valore così iconico, se invece diventa azione ecco che il pensiero raggiunge il suo scopo. Quindi Diabasis è l'unica cosa del film che non è di cartone. Allora molti mi hanno chiesto ma perché hai voluto, come dire, mettere in evidenza nel sottotitolo questa parola? Proprio perché essendo una parola strana tutti mi chiedono e chiederanno anche ad altri che conoscono i significati di questa parola cosa vuol dire Diabasis? E allora spiegando agli altri cosa vuol dire Diabasis metti in atto un pensiero che si fa fatto. Ecco, e in questo modo introduci in colui che ti ha fatto la domanda speri almeno una sorta di nuova abitudine a ragionare proprio su questo.